se non è per l'accademia ma io sto cercando solo è l'unico scarso che non è nemmeno il sito web non tv ammese pronto per favore acqua ed metti dove fare se lo trattato acce ammese pronto per favore facciamoci la porta normale poi intanto portano no adesso giochiamo nei seri privati di un tipo che ce li ha ah no non voglio di tps che fa sto bordello assurdo fate esitire i fratelli e sorelle per favore non fate casino grazie è un ordine impartito da un vostro superiore no ma calia la serata rocchissima che non prende neanche i tasti comunque se agent ha bisogno aiutatelo n suel zem in n ok cos'è che è? che se tu hai bisogno in partita di venire subito ad aiutarti perchè sennò non ce la faccio si ma ce la faccio da solo probabilmente qua dentro sono il più forte no dopo di 3 web ovviamente ci sono ci sono che mi 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 io sono alto che vuoi fai arriviamo no è fatto ma da me c'è un tipo non capisco si c'è un tipo da me raga aiuto aiutami io vado a prendere la car di nuovo aiuto è vero posto posto madonna tutto con otto di vita no questo no ah no ah raga c'è un medikit venite qua arrivo arrivo ok una kill non è arrivata sai che mi hai fatto premere un gol eh perchè sono a spell comunque raga c'è un tipo anche oh guarda me un secondo ok mi ha sciolto è sceso no vabbè qua basta che hai un bomb ammazzi tutti cioè colpa mia raga facile così arriva vieni vieni che sto lottando ha shielding muoviti eh sì sì prima che si li fa non se l'ha ancora fatta non se l'ha ancora fatta vai 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 lancia 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 ok ok dai lì tra coglione no è bello si non è che sei miei lì ti significa no io ero io ero io ero all'angolo io ero all'angolo io ero all'angolo poi eh io pensavo di essere all'angolo vabbè stesso vabbè no mia raga 200 di bacca a caso ok grazie ok 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 ecco modifica video mi sono morire alle urtile stanno organizzando un turnio pagato io ho visto no io non pago no con un premio vabbè premio su 20 euro ma quanto dite si deve da forza si pagate di vita del forza e ma vincere solo 20 euro è vuol dire che sanno un po di partecipanti 20 euro che non sono a 20 partecipanti 5 euro quattro persone no vabbè scusa mi fai un tipo quanto a 500 e 50 centesimi eh fatti fatti 20 centesimi ah ma in tiraftale fanno un euro no ma si lo conosco anch'io questo è giusto perfetto io sono il tischio e dai mi devi sparare jesus cristo perché devo scappare che sta fanno via per questo niente hai munizioni piccole ah è la pistola vabbè 7 munizioni meglio di niente lasci gente distrutto si ma mi ha distrutto che è successo ma questo qua quella thompson mi ha distrutto cioè a mezzo secondo ero già a terra che so che c'è quello che l'ho spingato è morto non è vero 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 che era non è vero non è vero non è vero non è vero Prendi la bolla e vieni a.. Non hai preso i deltaplani? Non vabbè, chi se ne frega, l'impolatica va per la cazzo Raga, io ho quintato Che ballo E perchè vai per vicino? No, no, andare vicino alla gente Se muori Vieni, vai a prendere le card che hai 30 secondi Vai, 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 adesso Hai 20 secondi Fuck A piedi non ce la fai neanche per sbaglio No, vado a prenderla un po' Ah, niente, io sono morto, 17 secondi Se non combatti con nessuno, forse ce la fai No E niente 8 secondi 6, 5, 4 No Niente, un secondo Grandi No Che c**o Dai, no Vabbè, ha capito Oh, non l'ho sentito Mi sto scazzando, va Non mi togli il mio Per questo non mi tolgo la macchina Dai, scendiamo il posto Non scendere, non scendere Stai su Finchè stai su, loro muoiono Se stavi su, avevi vinto Perché saliva questo qua, lo uccidevi Eh, ma io pensavo fosse giù questo, Rianimo Eh, sì, però può salire, ha le gambe anche lui, eh Sì, ma ero, ero convinto stasse giù Cioè Sì, sta giù, è salito Semplice Eh, non l'ho sentito salire Se lo sentivo salire, mi sarei coperto Eh, vabbè Ah, questi errori Ragazzi, ho metto sto skin, che era il mio skin preferito Ragazzi, ho metto, ho metto l'avocchio Ma qual'è che era il solito del coso, questo qua Ma tu in partita ormai fai 0 di pingwed Sì Guarda, fai 0 di pingwed C'è che appena tornato, eh, spadati E più, ti metto E più, ti metto Let's go Rekka, ma riacci non riesco a giocare, su tipo strateso Ho tipo la mano che mi trema, non riesco a giocare 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 No, no, no Non so, sono stato al cinema Ehm Ho comprato un Tipo un modellino di Alice di Di suurata line, non basta Non posso necessitare Ah, e ho comprato anche una maglietta a buy Ecco, forse è per quello Ma dai, il lobby ti è andato a 200 Fica, vai, in partita a 20, 20, 20 Ehm 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 No, vabbè Io ho 90 di ping Tranquillo Easy La figa adesso devi arrivare Ehm 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 Come Ehm Sì Dalla Di Andita La Eh Ma Ehm Ma Puoi Fare Il Cancro Così Beh Va Vabbè Quark Vabbè Potevi ditarla proprio Bene, we are back Adesso arriva un altro Davvero, sta arrivando davvero Guardalo Eh, stavolta ho messo un kill cast Faccio un altro Un altro Uno, guarda c'è Sono tutti qua Sono tutti qua Ma sono tutti qua No, hanno eliminato Erano tutti a pushare WED 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 Mettete la carta La carta La carta La carta La carta Dietro Saremo le munizioni No, ma non ho più munizioni però Me ne sarei fatti tutti Tutti a pushare WED Guarda 21 di vita Se avesse avuto più munizioni Questo qua 29 di vita Tutti me ne sarei fatti Queste Fede più uno di questi Solo avesse avuto più munizioni Solo quello Tutti Saremmo Vabbè, il metodo Trovato Come? Non so come è che vuole Monubrio Non so come è che vuole Chi ti vuole Arbit Bu Vi Non so come è che vuole Nonostante 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 Vedere che è Questa cosa Ah, la flanta la che ti fa saltare anche io con la skin oggi sì io non l'ho comprata nel percorso l'ho fatto per poco il primo starter pack ehi dimmi ho bisogno eh lo metto pronto questa season in questa no perchè le pubbliche non so più belle cioè si è per forza l'arena è qui vero si è vero no perchè in arena c'è non ti puoi neanche più qualificare no non puoi por niente io mi ero qualificata però è pino proprio no a me manca poco per qualificare invece farà non è che sei chiaro raga è strumento che si vedete alle 9 devo alle 8 scuola andiamo borgo borgo guarda raga ci sarà mezzo a lobby a borgo sì ovvio e l'altra metà prometto c'è stata tutti a borgo guarda come se la cagare sono lo stesso bellissimo ma perché è perché non ci sono materiali oh yeah ma poi ci sono i materiali in casa entri in casa con quanto materiale esce e io vado io vado in quella rossa 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 entro sotto io attenzione arrivo scusami hai cuore sì uno scendino no non è uno scendino arriviamo raga io vado in quella rossa io vado in quella rossa vai se non vai giù ma tu stai fai andando ma WED non ti dice niente che mi ritieni WED non te l'ho rubato lo giro hai colt di bomba ne ho 10 e ho il tattico perché ne ho 5 da dietro come da dietro no 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 ok da qua oh si 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 no i piedi no ci ho provato eh si mi piacerebbe bello ma questa la prendo io ne aveva uno ma dove sto andando ok oh ma sono oh dai vabbè ti auto the goal se la vincete non fate un favore sì altra gente come attaggia la e niente ma distrutto bianco bianco ma perché non divirà solo è bianco ma c'è un altro cecchino ma va va ancora oh ho vente tieni qua ma perché manca non evita non lo vedo più è scappato dentro casa comunque e ce l'ho anche sopra ma minchia sto laggando un sacco ma che cazzo ma avevo tanto 300 di ping faccio ce n'era uno qua però mi sa che sono scappato dentro a due bella adesso scendi ti guampampano tu chi è da te ma quindi sono scappato proprio tanto sti qua eh mi sa che si oh sono morto ah sono là sopra forse non mi avremmo qua fuori che ho usato sono rimasti sono a chi sono scappati proprio tanto sti qua ma distruggiamo la lobby ecco più pompa che ne ho quattro allo sopra sì ne ho cinque ah a posto vieni qua che ti vedo un po' 2 vieni che ti posso dare scappate proprio tanto ma c'è ah qua sono scappati ma dò che l'ho vista l'ho vista lo sa tutto sì ne ho cinque ah a posto vieni qua che devi dobbiamo da là da sud ma va va fai la scala fai la scala eh ma ci sono in mezzo vieni che scappate di votando ma c'è una ma dò che l'ho vista l'ho vista lo sa è bello lui vabbè dove fa ma dove sono non mi ha capito è lì è sul coso ah là ma va va viste riesce rianimarmi esatto chi ti caga a te scusa me io rianimo ma tanto c'hanno di cosa per volare quindi i due secondi sono già qui e poi ho 60 di vita eh esatto io devo andarmi a portare il loot eh io guarda sto andando via ciao l'ho sciolto si però non c'è io ho 60 di vita ma proviamo ma non sono forti ma sì è che sono tanti ce n'è uno da me con la pietra ombra un altro di nuovo ma che da volete da me come ha fatto a farmi no come ha fatto a farmi c'era più male da lì che di solito togli morirai no ma raga ma ha tolto il 97 da lì inoltre eh sì quanta vita di solito togli l'altro 37 125 ho ammirato penso abbia mirato in testa proprio piena proprio testa piena sembra fargli far con di danno tattico può far così male ah ma il panzone se n'è andato ah sì però ci sono persone cioè c'è dj voi persone dj voi persone mi piacciono c'è people c'è è incredibile barberico che è incredibile con people vai super poi c'è c'è basta c'è xera oh no non è che venga sto splodendo non so perché mi sento buona sto stile di gioco di andare tutti in una casa ah è vero? è gara a chi dà più piccola e chi trova la prima che figa la metica del rapace però secondo me dovrebbero fare che tutti portano con un aero eh minchia bello lui c'è è troppo facile perché è concentrato i materiali è troppo facile perché è troppo facile per tutti si cosa vuol dire c'è atterri già con un pompa chi atterra prima spara quelli che sono in aria con l'aereo con il pompa c'è così arriva la gente che atterra già due di vita chi atterra c'è chi non è bravo da buttarsi per conto che fanno che al volo non si può più colpire forse così forse proprio dopo non avrebbe senso perché in mid game perché in mid game usi la jump usi rift sei mortale stanchissimo ti giuro adesso tra iardo basta oh my yes mi devo sdraire un atto no mi si è bruttato ora riguarda un po' oh lo metto alla dd perché mi lagga anche con l'ethernet non capisco ma non lagga con l'ethernet ma anche tra due mesi che mi deve arrivare il wifi nuovo figa non arriva ma ho cambiato la stessa unità mi la sento altissima e scoffa i trecisti io prima non li sapevo neanche fare allora che wad vedo un brano nuovo è il più figo di tutti ovviamente sono quello già atterrato bella la tamburo E poi raga Lo spam è inutile Ora c'ho i tazzo Dov'è? Sopra Raga non sono usciti Ah fa niente Quello laserato da te Ok fatto Uno sopra il tetto Oh è la bomba questa Ok là scudato Ok è vero E' un'altra Niente Eh qua c'è una mi tetta più che la vuole La ho lasciato qui dentro No, vado a fregatelo Tieni Oii, te lo batti qua Cosa lascia? Lascia un po' Cos'è che c'è lì? Uh bello vuoi pompa Anche se il tattico mi sa che rimane meglio Però Questo qua si fa più veloce Comunque raga c'è tipo se diseckipaggio e re-equipaggio sto pompa È tipo gigantesco E' un altro medio E' un altro medio Grazie a tutti. Mi dai colpi, un po' di colpi cecchino che ho evitato prima Facciamo una colletta di colpi cecchino Ma che è che l'ha creato il vostro team? Ah ma c'è un antico più Non moriamo in safe, non moriamo in safe Rift qua Finchia seriamente Prendiamo il tubo No, no, perchè? Vai Beh, i risportati in effetti è una delle cose che dovrebbero levare Non c'è Non c'è Non c'è Dove va io? Eh, è vero? Oh, ci c'è niente qua con la palla Una terra Oh, ma ci sono tipi qua Raga, ha uno di vita Raga, ha uno di vita Raga, ha uno di vita Non c'è Non c'è Non c'è Allora, vale in safe Raga, ha uno di vita Un colpi da lontano Oh, ma guarda che stifo se ho con la O Ma vedi che a me è arrivato un tipo a casa Vai, sparalo col pompa, col pompa Anche da lì Ammazzi Ma dov'è? Non ci posso credere come Lui mi ha fatto solo headshot Ma voglio morire Solo qua mica giocano adesso Al giorno d'oggi solo così giocano E t'ha distrutto T'ha distrutto Così gioca la gente Aspetta e spara Giusto Bravissima, prendi la card Davide a mezzo centimetro la card Da che sfiga Anche io sono morto così Top, top, top Top morte della vita Voglio un minuto di silenzio per sta roba E' stato spettacolare Vediamo se entrate Aspetta Ma è tornato? Possiamo evitare tornato? Che brutto Che quanto cringe ha il ballo Nel livello 14 E' cringissimo No, perché ho messo sta skin? Non volevo mettere questo Cioè la volevo mettere ma non così Che brutto Figa Sembra un nudista Non so Non so Che brutto Non so Che brutto 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 Sì, sono del team 2, perché voi siete un team secondario, no? Eh sì Bell'arma di merda Sono morto comunque Sei morto? Vabbè, prendi, prendi Arrivo Vai, vai Non può un po' nerdo BOOM Poverino Sta bene C'è la 50hs pulitissima Andate dalla carne qua Sto preso io Usciamo questi qua in caso Raga, andate verso l'aria Arriva, arriva Dentro No, dai nell'erba Oh, dov'è? Dov'è? In fondo Mi sto buscendo io Dov'è? Non capisco Ah, ma c'ho sopra io Era full shield Minchia Ah, comunque uno da te a caso gli ho fatto 78 Quanta vita ha 66 Gli ho fatto a caso 78 a uno che c'era da te Poi a caso me ne sono visto uno sopra Da schifo non si sente nobile Va bene qua Perfetto Perché siamo in 53? Ma... Vabbè, comunque facciamo una ricorda italiana In questa bella qua Facciamo, sì, facciamo destra squadra, ehmai Let's go Oh, no Devo andare a sistemare un ottimo l'audio Oh, poi, raga, facciamo tipo... Facciamo una... Invitate 20 milioni di amici E facciamo una creativa a 16 Ehm... Facciamo? Facciamo quella... Guarda tutti, comunque Ci sta, ci sta Mettete creativo Però devi invitare gente, raga Cioè, minchia In 5 e fa cagare Invito... Invito Tornado Beh, Tornado quando finisce e entra Invito tutti, invito tutti Invito tutti i miei amici Sì, sì, infatti io so Allora... Io sto invitando amici a caso Anche, neanche, non ci gioco da tipo 20 anni Ok, non pio Vabbè L'importante, l'importante è che entrano Facciamo scrim Allora Demo... Sì, raga, io invito tutti Ha dubbio Qualcuno che rispira Sì, ho Agente Metti Creativa, intanto Ah, mia, l'obbio, è vero Guarda, guarda Voglio invito tutti No, anch'io ho avuto tutti i miei amici Però, sono tipo tutti in partita Ma raga, ma aspettiamo un attimo Che la gente entra Ah, proprietà Magari te lo dicono, Giusy, eh Io te lo sento bene Quindi teoricamente si sente bene Ma raga, ma sta entrando nessuno Beh, che diva bella Voi ce l'avete una mappa Di scream rotation Di... no, di safe rotation Anch'io, un botto ne ho Io ne ho una sola Fatta un po' male Peccato che ero scarso In sezione 4 Mi piacevo anche Omega No, non mi piacevole 10 euro Ah, ok Ah, io ho avuto tipo 100 euro In questo account Boh, due del genere Oh, ehm C'è un bug, è vero E scusate la creativa Dopo mi posso unire Avete messo la bifubbica No Adesso Non è mia la roba Aspetta No, sì, è mia la roba Ma non è la roba Ok, è pubblico Ok, va Entrate voi Poi entro io Perché se no Non inizio mai Non parto Avvia un server Quanto è brutta la rapace femmina Raga, ma è proprio brutta brutta È la copia fatta male È la copia fatta male del rapace Ragazzi, dovete mettere pronto Ready, ready, ready E' colpa di bambini e bambini in Gesù E' colpa sua Addio Sbatti Find the Mesh please Image Sbatti 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 Ma Sbatti Sbatti Ma Ma Sbatti 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 amore qui però quando siamo e' esatto i pubblico c'è già pubblica però è quella pubblica c'è oppure entra in partita la metodo pubblico se adesso non entra nessuno si si dimmi ah bravo sono pronto ok che dici che schiena è questa? va benissimo oh adesso e' partita e' partita la partita ma la privacy e' pubblica non è ancora entrata con voi eh quanti c'è? eh quanti c'è? gli altri erano era nero tutto il resto era nero crede che Fortnite fa le cose per bene siamo solo in 5 ragazzi che poverata 1,2,3,4,5,6 no come è che la sei protetto dove è del genere vede si ha portato tutto il team ah ma il team ha anche gli sponsor eh allora comunque Luca sono in live anche io senti come può un po' la musica ma come fai a mettere la musica personalizzata? chi ha via? io non l'ho provuto qualcuno ok come si... non l'abbiamo mai fatta questa cosa darmi spawn a caso questo è un'altra cosa casuale e poi tre mi ragione e' spacchi i muri ma... ok ok ah e' poi dopo? ce la sei spacco i muri si ah e' un po' così io ah ma ce la io non ho prendi finiti giustamente va perchè sono i miei spettatori? no raga boh che è il f*** tu no oh stiamo andando o spaga materiale o? eh ho finito un po' che eh ho finito oh la sei ah cazzo oh ma chi è? oh ma è dalla montagna oh? eh che è quello sulla montagna? ah il ground infatti questo dopo non cazzo ma chi è qui ha l'anonimo? non cazzo? what the f*** eh cazzo eh cazzo eh cazzo ah si da ma... che schifo eh ovviamente io vhead e rimaniamo gli ultimi oh si deve si spammare con la mira dai whead non ti metterà a fare i flick e mi incazzo eh che chiedi basta? eccolo no 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 cazzo ci muore Luca per quella safe dai che schifo che fai wade mi chiuso nella safe vabbè io fai giocare proprio ma devi... vi dai, guarda no, riga, ma ha crashato no, non ci posso vedere cacchierola che bello quando ti crasha si, belli crash no, non ci posso vedere che bello quando ti crasha proprio fantastico fantastico che bello quando ti crasha no, non ci posso vedere che bello quando ti crasha no, non ci posso vedere che bello 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 Grazie a tutti. 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 No. No, no. Buona io c'ero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, porco due. What? Vabbè. No, no. Quattro. No, no. No, no. Chi è? No, no. No, no, no. Oh, no. No, no. No, no. No, no.